Durante uno specifico controllo del territorio nei pressi dello svincolo autostradale finalizzato a preverine e riprimere il traffico di sostanze stupefacenti, i finanzieri della compagnia di Castrovillari hanno fermato un'autovettura condotta da un cittadino campano, il quale è risultato sia privo di documenti di riconoscimento sia della patente di guida. A questo punto è scattata la perquisizione del mezzo che stava conducendo, durante la quale sono stati rinvenuti abilmente occultati all'interno di un doppio fondo ricavato sotto il sedile del passeggero 5 panetti da un chilo avvolti di nastro adesivo trasparente contenenti cocaina e alcuni involucri con 500 grammi di hashish, il tutto per un valore di circa un milione e mezzo di euro. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente.